Grazie a tutti. Il cibo siciliano e anche ci sono dei pittori molto importanti dalla Sicilia che hanno fatto una opera molto buona per la leuchemia e dove deve essere un auction. Vare fino a lunedì? Fino a lunedì, sì. Benissimo, ora siamo a andare a vedere le pitture delle bottiglie che a lei le piacciono di più. Quali le piace di più per cortesia? Ok, grazie. Non direi se la pittura delle bottiglie che le piace di più? Direi sinceramente questa qui che ha dell'intrigante. E come gli sembra quella di La Causa tanto importante anche per la bichimia? Allora ci fermeremo un po' di più. E per lei qual è l'opera degli artisti che le è piaciuto di più? Secondo me la più importante è questa qua. Questa qua? Questa pittrice, mi piace, questa pittrice, mi piace, mi piacciono i suoi colori, mi piace la sua, l'espressione, la forza, la forza del cuoco. Questa pittrice è un po' di più. Questa pittrice è un po' di più. I'm looking forward to the food, I know it's going to be great. Ok, right now please give it up for the first song singing from Shana Grossman and then we'll start eating, I know you're hungry guys. So Shana Grossman, please come to the stage. A voice of me, I know, through my heart, my soul and my heart, I wouldn't have ever heard of this song, that it's going to be great. La tua inclinità disfettosa, la rosa infallidita, la tua fronte scolumida, la stella in oro e l'or. Nella rosa è destinata a possar di vicinetto, a trovare un scordo preto dove incendiare il dio d'amor. Nella rosa è destinata a possar di vicinetto, a trovare un scordo preto dove incendiare il dio d'amor. Nella rosa è destinata a possar di vicinetto, a trovare un scordo preto dove incendiare il dio d'amor. dove incendiare il dio d'amor. dove incendiare il dio d'amor. Magari una miniatura come questa molto interessante, molto bella. Ma anche si può vedere che Napoli e la Sicilia sono molti amici allora, grazie per te. Certo, certo. Assolutamente. Il regno di Napoli e della Sicilia, quindi Napoli è stata la capitale del sud, anche della Sicilia. quindi siamo molto vicini e simili e quindi il sud è assolutamente. Il sud è meraviglioso, il sud è forte di tutto. E' perfetto, è un vino molto da corpo. Esatto, colposo, molto forte. Com'è il momento. Bene. Le ringrazio molto, ma dopo un'altra volta, dopo la cena, dobbiamo fare un'altra vista. Sì. Oh, c'è una violenza. Carme, Carme. Carme. Carme, sì. Grazie. Rappresento artisti italiani e sono con il centro per lo studio dell'esistenzialismo cibernetico e rappresento proprio Caselli, il fondatore, il caposcuola dell'esistenzialismo cibernetico. Complimenti per questo evento, veramente simpatico. Noi aspettiamo che vi piacciono di più perché anche abbiamo delle cantanti che cantano opera e sarà una serata bellissima. E se voi siete anche qua, questo 27 di ottobre anche sarà un'altra gala, una cena molto simile ma anche sarà con danzatrici spagnoli. Sì. Ma le ringrazio anche. Grazie. 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 Sì. I'm a friend of Alvassage Salvatore and I have done some work for him. I'm an artist. I'm a painter by trade. And I've gotten into doing digital retouching in Photoshop. I do that to make a living and I also do photography. That's my next endeavor, photography. I love Sicily so much so I thought I would contribute to the country by singing some songs by Sicilian composers and honoring Sicily with my voice my beautiful voice. Well I'm here because she needs a pianist so but also I just love, I've been to Italy for three summers and I just love every part of it and I'm glad that I was able to do this This is my friend Perniccone! Do you want to interview? Gianni Perniccone, origin from Sicily, right? Yes, yes, both of them. Re Calbuto, province of Edna, near Catania, Tortorice, province of Messina. You're also from Messina, your name is? Yes, I have a little bit. I've done it, I've done it, I haven't done it too much. In this moment I'm here with Mr. Michael Tiffoni. Michael Tiffoni is a very important sponsor for Bernacris, Barbacris, Barbacris, his name is Vato. And he can't tell us what are these wines, what are these wines and how is the bouquet and which are the best and how you eat it. With what type of food? Well we have the Sicilian wines with the dinner. These are not the Sicilian wines. The Sicilian wines are going to be served with the entree. So what are the brands that you recommend? The Donna Fugata and it's Antilia, which is a blend of white grapes and also an Ero Diablo from Sicily. So what is the one that you prefer the most? One is a white and one is a red. So it's up to your preference on which one you prefer best. For example, we have a very good meat or something. The meat I would go with the Nero Diablo. It has a little bit of pepper notes and a little bit more musty and it definitely picks up the flavors of the earth, the terroir in Sicily. And for the fish, what do you recommend? D'Antilia, it's a very light, refreshing wine, crisp, fruity and it has a nice and good finish to it. That's fantastic. So later on when we try these wines, we're going to talk to you more about it. Ok. Grazie tante. Ciacere di vederti. Ciao. 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 Andrea Di Fioria. Ok, adesso ci troviamo con Andrea Di Fioria. E l'Indus ci può dire che ci pensa di questo evento tanto interessanti di l'Indus in La Petite. Do you like it? Well, yeah. I like the wine labels. Which one? Which one do I like? Oh, I like many of them. Many of them. Yeah. I guess that. But these are the first ones here and the second one. I recognize that. What, the third one? Yes, I recognize that. The fourth one. Right with the, the woman's eyes. Right with the, the woman's eyes.